Salve ragazzi, diretta improvvisa perché come sapete qualche giorno fa sono stata al Profondo Rosso Store e naturalmente non ho visto solamente il museo degli orrori che potrete trovare, anzi in video consiglio tutti ad andare al Profondo Rosso Store ma ho fatto delle cose, come potete vedere la busta, eccola qua, la busta del Profondo Rosso Store dove qualche giorno fa sono stata e mi sono comprata, sapete che amo la lettura, tre libri il primo, ovviamente parlano della trilogia degli animali di Dario Argento allora guardate, il primo è L'uccello delle piume di cristallo, vi presenterò tre libri scritti da Giovanni Modica qui potete trovare tutto quello che c'è da sapere sull'uccello delle piume di cristallo che nel 70 ha rivoluzionato il cinema della paura ve lo consiglio perché ci sono tantissime curiosità, guardate, guardate foto che non avete mai visto, guardate, guardate ciao Alessandra ciao, ti saluto ecco qua, guardate questo è il primo libro che vi consiglio andate al Profondo Rosso Store di Roma il secondo libro che vi consiglio ecco, è Il Gatto a Nove Code il titolo è Dario Argento, il gatto delle molte code e ovviamente Luigi Cozzi ha collaborato sia al primo che a questo secondo libro e poi anche al terzo libro guardate eccolo qua qui scoprirete tutti gli aneddoti, tutte le curiosità sul Gatto a Nove Code che nel 71 ha terrorizzato gli spettatori di tutto il mondo vi faccio anche qui vedere qualche foto guardate guardate un po' ecco qua trovate veramente tutto terzo libro non poteva mancare l'ultimo film della trilogia Dario Argento e le quattro mosche sempre di Giovanni Modica con Luigi Cozzi sono d'accordo con quello che ha detto il critico Valerio Caprara giornalista che questi Giovanni Modica sono libri che riescono nel difficile compito di coniugare con sufficiente equilibrio la passione con la competenza potranno servire insomma anziché esaurirsi come spesso accade in questo tipo di editoria nel narcisismo cinefilo guardate anche questo è un bellissimo libro io ancora non li ho letti ma li sto per leggere guardate chi è appassionato di Dario Argento chi è appassionato di Thriller giallo ecco qua troverete tutti gli aneddoti ecco qua i tre libri guardate l'uccello dalle piume di cristallo eccoli qua quattro mosche di veluto grigio e il gatto a nove gode adesso mi farò una scorpacciata mi leggerò tutti questi tre libri eccoli qua al profondo rosso store grazie a tutti alla prossima grazie a tutti